E' una sorta di supplenza, vorrei anche dire una cosa che mi è sembrata molto importante, cioè un'altra cosa che mi ha colpito, parlo di un'esperienza reale, era poco lontano da qui in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità di Dio. La mattina dopo del voto, se lo cambiamo, sono stati riempiti di lacrimogli, per non pensare, 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 per non pensare. Vergo ya! Vergo ya! Vergo ya! Vergo ya! Di qualcosa di sinistra! Via 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 via.